Chianti Classico è il profondo del cuore Chianti Classico credo sia la piacevolezza della sera il bello del mattino e il gusto del vino Chianti Classico è un'ora d'aria dal solito un'ora d'aria dai posti grigi un'ora d'aria dai vini che non sanno di niente energia, vitalità, voglia di convolgere gli altri Chianti Classico è qualcosa che spizza da ogni suo cuore da ogni sua collina e soprattutto da ogni bicchiere Chianti Classico è tutto è un contenitore dove trovi dentro di tutto e ti sorprende ogni volta Chianti Classico è vino Chianti Classico è il paesaggio, è olivo, è olio, è vigna, è persone, è agriturismi, è accoglienza, è cultura, è storia, è tradizione Chianti Classico è bellezza, questo è il classico questo è quello che troviamo in ogni bottiglia tutte le volte che mi versiamo in dolce non vorrei essere retorico ma lasciatemelo dire il Chianti Classico è un vero luogo dell'anima è un luogo dove ci si ritrova tra amici è anche un grande vino ma sono anche territori straordinari è il sa discendi di queste strade le colline, i paesaggi mozzafiato e il lavoro soprattutto questo devo dire il lavoro di centinaia, centinaia, migliaia di persone migliaia di contadini che con la nobiltà e la voglia di ritornare a fare i contadini producono un prodotto che ci riconoscono eccellenza in tutto il mondo vino di molto buono